Buonasera, questa per noi è l'ultima sessione del Link Festival e ancora una volta, scusate se l'ho fatto praticamente sempre, però oggi ancora di più vi ringrazio per essere venuti perché di domenica pomeriggio mi rendo conto che deve essere impegnativo e mi rendo conto anche che evidentemente abbiamo fatto la scelta giusta, la scelta degli autori che poi abbiamo chiamato qui, la selezione è stata fatta sempre continuando nel percorso che abbiamo intrapreso in questi cinque giorni, cioè unire l'editoria giornalistica a quelle che sono le sue propagine, a quelle che sono i suoi molteplici aspetti e quindi oggi parlando di satira e parlando quindi assieme a Vincino questa mattina di satira anche realizzata attraverso illustrazioni, vignette, storie, abbiamo scelto due personaggi che comunque gravitano nell'ambito non solo del fumetto ma anche dell'editoria giornalistica e io sono veramente contento di avere due autori che per me rappresentano molto dal punto di vista del fumetto italiano e internazionale e tra l'altro uno di loro è un mio grande amico e lo dico con orgoglio, l'altro spero che da ieri lo sia diventato nonostante l'accoglienza molto calorosa diciamo, quindi sono Roberto Laforge e Paolo Baciglieri e vi pregherei di fare anche un applauso, due autori che tra di loro secondo me molto differenti, uno che Paolo Baciglieri è sul campo già da parecchi anni e ha al suo attivo una serie di premio, una serie di opere che sono arrivate non solo sul territorio nazionale ma anche internazionale e che uniscono secondo me molto bene sia una capacità di essere apprezzato dall'editoria poi rivolta, l'editoria un po' più popolare il lavoro che ha fatto con la Bonelli e anche quella più alternativa, più indipendente e anche più di ricerca, credo che la prima volta che tu hai pubblicato una tua opera è stata a 21 anni se non sbaglio, no? 86? Pagata? Ma diciamo, l'esordio assoluto è stato qualche anno prima, in realtà a 15 anni, però era una cosa appunto non retribuita, ho cominciato comunque sì, molto buono. E tra l'altro io adesso non, la biografia di Paolo Baciglieri dovremmo spendere più o meno un'oretta solo per parlare di questo quindi vorrei focalizzare invece... Perché è molto anziano. È molto anziano, sì. Però diciamo hai avuto anche dei maestri, hai lavorato con alcuni degli autori insomma più importanti che ci sono stati poi in Italia e credo che il tuo stile rappresenti bene questa commissione anche di popolare e diciamo fumetto d'autore, illustrazione e lo fai poi chiaramente con un tuo spirito molto personale. Io volevo spendere anche due parole e poi lascio il microfono solo a loro perché oggi se riusciamo l'idea era di fare un workshop, però siete tanti per fortuna e quindi probabilmente si virerà verso qualcosa che sia forse meno interattivo ma che permetta a tutti di essere coinvolti ugualmente. Roberto Raforgia è un autore che tra l'altro nasce dalle nostre parti e poi si è trasferito al nord dove tra l'altro ha avuto anche un po' più di facilità per l'attività che realizza di lavorare. Ha pubblicato da poco il suo primo romanzo, il suo primo graphic novel che è uscito per Cocorino Press, però già in precedenza aveva pubblicato sia per case editrici molto importanti ma anche per giornali, tant'è che questo è uno degli elementi di cui dovremmo trattare oggi, cioè il rapporto poi tra una testata giornalistica e un illustratore, un fumettista che deve consegnare il proprio lavoro, la propria opera e quindi come funziona questo tipo di interazione. Roberto adesso ha pubblicato questo romanzo che si chiama Il Signore dei Colori che è uscito anche in Francia ed è al lavoro sul suo nuovo libro e in più ovviamente fa una serie di cose dalle collaborazioni con i giornali alle opere anche per altri committenti e quindi mi sembrava che fossero due delle persone più titolate per essere qui anche perché Roberto ha una collaborazione anche con Il Male, tra le tante e credo almeno per quanto mi riguarda quando leggo Il Male la prima cosa che faccio è andare a leggere le storie di Roberto e se no poi faremo girare quella sul Papa che è molto delicata, se non l'avete letta, la storia che ha fatto Roberto Laforza sull'elezione del Papa, vi consiglio, ogni vignetta è una risata innanzitutto, non è poco. Quindi niente, io non mi dilungo, volevo solo dire in parole come avete visto molto raffazzonate perché abbiamo scelto questi due autori e quanto piacere ci faccia che loro siano qui e quindi passerei a voi la parola anche perché l'idea era appunto di realizzare un workshop che vi mettesse direttamente all'opera sul disegno, però siete una sessantina o poco più. C'è qualcuno che ha portato materiale disegno, propri lavori, non ci sarà la possibilità di farvi lavorare qua, come vedete lo spazio è quello che è, ma magari a fine incontro possiamo dare un'occhiata, parlarne insieme se a voi interessa, se vi interessa un parere. Certo, sì, sì, più che volentieri. Vado meglio? Vai, vai, lo presto. Allora, buongiorno a tutti, grazie davvero per essere così numerosi. Siamo venuti qua davvero io e Paolo con l'idea di farvi vedere materialmente insomma che cosa significa attraverso una sorta di simulazione, di commissione, che cosa può significare dover chiudere una storia, doverla inventare, disegnare, colorare nel giro di poche ore e quindi di farlo con voi e anche attraverso le vostre forze. Solo che siete in tanti e questa cosa ci piace, quindi piuttosto che fare un workshop in cui non riusciamo a seguire nessuno di voi, abbiamo preferito all'ultimo secondo di andare verso un racconto insomma di quello che è il nostro lavoro e che cosa significa per noi lavorare con editori e redazioni. Allora, l'esperienza più forte che forse ho avuto in ambito editoriale e più forte in termini proprio di ristrettezza, dei tempi di consegna, di rapporto e di preparazione proprio del lavoro ma in termini quasi culinari proprio da cucina, proprio da officina e è stata quella con Vincino sulle pagine del male perché prima di tutto è un settimanale, adesso ha avuto un momento di pausa, il giornale sta cercando una sua nuova formula però per due anni qualcosa di più forse abbiamo proceduto settimanalmente e potete capire che cosa significa fare un giornale in cui bisogna occuparsi di attualità, attualità politica, attualità sociale, significa praticamente reinventare il numero di giorno in giorno perché non sai mai che cosa succede lungo l'arco della giornata, che cosa può succedere domani dal disegno di legge all'attentato o il missile lanciato su Gaza e quindi queste cose prendono sopravvento e vanno a condizionare il... quello lì è l'ultimo numero uscito questo è l'ultimo, sì o l'elezione del Papa, insomma cose così e io ho toccato poche volte per la verità aspetti della vita politica che è intesa proprio della macchina politica, quindi tra gli autori del male non appartengo a quella schiera di autori che fanno dipendere il proprio lavoro appunto dalle notizie del giorno, certo in qualche modo mi occupo anch'io di attualità ma anziché fare una satira politica cerco di fare una satira sociale che abbraccia macrotemi più che il disegno di legge ma questa cosa in ogni caso va a colpire comunque la scelta del tema di settimana in settimana perché la redazione ci chiede e mi chiede appunto di fornire un contenuto che abbia una sua durata nel tempo ma che abbia un suo peso particolare nella settimana in cui viene pubblicato tecnicamente lavoro proprio così, cioè io dovrei consegnare il fumetto il venerdì sera o venerdì notte perché poi durante il weekend viene impaginato e reimpaginato nel caso succedesse qualcosa durante il weekend quindi l'importante che porta appunto a cestinare proprio quello che ho fatto e dover fare qualcosa di più attuale, cioè nel senso che se tocca un tema e poi nel frattempo ci sono stati degli sviluppi io non posso dare al lettore una cronaca o una satira di una cosa che nel frattempo è cambiata come per esempio la fumata nera, la fumata bianca del Papa, cioè abbiamo cominciato a fare questo numero dal momento preciso in cui è stato eletto il Papa, cioè siamo arrivati alla conclusione definitiva di questo numero perché eravamo tutti convinti che la prima fumata avremmo avuto il Papa e da lì avremmo potuto cominciare a lavorare si erano presi accordi con lo stampatore eccetera e poi il Papa non c'era e quindi ci siamo ritrovati tutti un po' con le mani in mano e dicevo appunto anche se tratto temi di, anche se faccio satira sociale e non scendo proprio nei dettagli del disegno di legge, delle varie dichiarazioni dei parlamentari, senatori e deputati comunque tengo le mie 3-4 tavole che devo consegnare, le faccio proprio all'ultimo secondo perché non si sa mai, avrei comunque quei 3-4 giorni in cui mi chiamano prima e mi dicono insomma ogni settimana è così, però per mettermi nei guai da solo lavoro proprio, è una cosa che ho deciso fin dal secondo numero, cioè mi sono autoimposto di entrare in quest'ottica produttiva ed editoriale e questo mi ha consentito di andare davvero subito al cuore e accogliere davvero il senso di un'attività giornalistica o satirica, editoriale, settimanale e quindi questa insomma è stata la mia esperienza più forte poi vi posso approfondire questa cosa, poi lavorare con Vincino, non so quanti di voi stamattina erano qui e hanno ascoltato Vincino che è un personaggio stranissimo perché sembra, appare molto disordinato magari nell'esposizione e nel racconto però poi al lavoro questo senso di spaesamento non c'è, è una persona molto lucida quando bisogna lavorare, quando bisogna creare il giornale, è una persona che è capace di tirar fuori delle risorse energetiche che nessuno di noi sa da dove pesca e riesce comunque ogni settimana a chiudere il giornale che è una fatica. Non so Paolo, altrimenti parlo soltanto io. Io volevo chiederti al proposito del male, perché il male sono soprattutto vignette come queste e tu fai sempre invece delle storielle, no? Sì sì, io faccio sempre fumetti, non mi trovo bene. Non so se vengono proiettati qua dietro di me, questa è la storia di Roberto, sono più pagine e questo cosa comporta secondo te? Cioè c'è una differenza tra fare delle vignette di satira anche politica e fare invece delle storie a fumetti? Guarda, io sono, come tu sai probabilmente, sono affezionato proprio al linguaggio fumetti e credo che questo linguaggio, non avendo il meritato spazio sulle riviste messili o settimanali d'Italia il male è un'occasione per concentrarsi, per guadagnare quel terreno che il fumetto ha perduto già da, se non sbaglio, dagli anni 90 insomma o dai primi anni del 2000 la sua, l'abbandono dell'edicola da parte del fumetto quindi la vignetta invece in qualche modo è sempre rimasta sui giornali, sui quotidiani magari ce ne sono poche, magari anche un vignettista qui vi potrebbe dire non si pubblicano tanti vignetti eccetera, come io vi dico che non si pubblicano tanti fumetti però preferisco davvero, anche perché insomma il mio lavoro, il mio mestiere non sono fumettista anche se tra vignettista e fumettista c'è sempre come dire anche uno scambio di ruoli è capitato anche a me di fare delle vignette in fondo ed è capitato anche a tanti vignettisti di provare a cimentarsi in una storia e scrivere un racconto sì, i due mondi sono collegati ovviamente anche se sono due linguaggi diciamo diversi simili ma non uguali ecco perché fare una vignetta politica, a parte che io non sono capace quindi per me è anche un mondo abbastanza misterioso quello di Vincino per esempio che invece lo fa quotidianamente sì, Vincino è come una macchina da guerra perché ne fa significa usare diciamo il linguaggio dei fumetti concentrarlo ecco in una immagine sola con una battuta fulminante ed è un lavoro appunto diverso e complementare rispetto proprio a raccontare invece una storia fumetti che comporta il fatto di associare le immagini al testo e lavorare proprio sulla sequenza, sul racconto e quindi ecco non è così automatico e naturale passare da una cosa all'altra per questo faccio questa domanda a Roberto no, sto pensando a... scusa tanto più appunto che Roberto ha fatto anche dei veri e propri adesso li chiamano graphic novel e quindi ha lavorato proprio sul racconto a fumetti insomma di un certo spessore, di una certa lunghezza e quindi lì insomma si affrontano delle problematiche diverse rispetto al lavoro che fai per il male immagino sì sì, beh, prima di tutto cambia proprio la dimensione proprio la postura psicologica lavorare per un giornale significa che tu ogni giorno lavori per quel giornale anche se esce soltanto una volta alla settimana però, come dire, ti rendi la tua testa a disposizione della prossima idea che ti può venire durante il corso di tutta la settimana lavorare su un graphic novel beh, in fondo anche lavorare su un graphic novel significa lavorare... avere comunque sempre in testa la storia, la struttura e occuparsi, significa comunque occuparsene anche in questo caso ogni giorno e sì, la differenza è che è una questione proprio, come dire proprio tecnico-editoriale lavorare per... lavorare su un graphic novel significa avere un contratto che ha una scadenza più lunga e... anche se poi quando si arriva che mancano due mesi e hai ancora 50 tavole da fare non è... non appare più così lunga questa scadenza però, insomma... si fa... io volevo chiedere a te, Paolo qual è stata la tua esperienza editoriale più frenetica non necessariamente per... su settimanali o messili però quella... l'esperienza editoriale che ti ha coinvolto proprio... cioè che non ti ha fatto dormire la notte praticamente quella in cui ti sei sentito il guerriero proprio che deve restare sveglio a chiudere le tavole beh, nel nostro lavoro e come tu sai ogni tanto succede dover fare delle notti insomma sul tavolo del disegno c'è la consegna e quindi di solito si è sempre in ritardo ecco quando parli con un collega la frase normale è proprio questa sono in ritardo con... no, sono in ritardo oppure mi pagano in ritardo ecco due varianti sono queste e... l'ultima in ordine di tempo riguarda probabilmente Sweet Sagari e che è un... un libro a fumetti che ho fatto appunto che è uscito l'anno scorso per Cocconino lo stesso editore di Roberto e... e per il quale in realtà ho lavorato cioè ho avuto tempi lunghissimi diciamo dall'idea originaria di stare più di dieci anni fa tipo ecco quindi una sorta di ossessione di lunga durata però il lavoro effettivo mi ha preso diciamo soprattutto gli ultimi 4-5 anni a varie riprese no interrotto da altre cose a un certo punto comunque si è trattato di chiudere il libro entro una data in cui andava mandato in stampa per dopo essere presentato a Bologna a un festival e quindi c'erano da rispettare insomma delle consegne e per cui come appunto spesso capita mi sono trovato a dover fare le famose famose notti al tavolo del disegno insomma che è un po' diciamo si rientra ecco nella prassi del nostro lavoro in questo caso è stato un po' più impegnativo perché c'erano vari fattori che complicavano uno è il fatto che non avevo mai fatto una storia in costume per esempio ambientata in un'epoca ben precisa un secolo fa in Italia due è che è un libro montato anche in una maniera particolare cioè non è una storia con uno sviluppo temporale continuo fluido ma è una storia che continuamente salta avanti e indietro secondo un ritmo quasi come dire direi musicale ecco è più che cronologico e quindi è stato faticoso appunto anche per un discorso di di scelta proprio di scansione del racconto che è uno degli aspetti su cui ci si trova a lavorare quando si fa appunto un lavoro di appunto di largo respiro come questo e quindi ecco in ordine di tempo direi Sveitsalgeri sì che poi mi diverte l'immagine di di te che fai le nottate a disegnare Salgeri che fa le nottate perché lui faceva ha avuto una vita un po' complessa dal punto di vista proprio professionale sì sì insomma credo che sia normale identificarsi con i propri personaggi immagino che succeda anche a te sì 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 no però in diversi magari gradi però in questo caso mi diverte questa immagine di te sveglio la notte a disegnare Salgeri sveglio la notte cioè sembra davvero una storia infinita cioè sarà sempre così è sempre stata così è così adesso e sarà sempre così e tra l'altro queste sono le immagini dal lavoro di Paolo e sì per quanto riguarda invece il mio graphic novel Il Signore dei Colori tanto per rimanere in questa parentesi la mia esperienza in termini proprio tecnico non voglio dilungarmi ora sul perché ho scritto questo libro eccetera non è questo il festival in cui si toccano questi questi aspetti insomma del fare fumetto credo che voi siate più interessati a capire quali sono le dinamiche editoriali è un libro che ho cominciato a scrivere cinque anni prima di chiuderlo naturalmente lavorando anche su altro e quando l'ho finito e l'ho consegnato agli editori cioè a Coconino Press in Italia e all'esedizione a Trebill francesi per la verità svizzera ma che pubblicano distribuiscono nei paesi francofoni ero abbastanza convinto di aver chiuso il il lavoro e salvo qualche piccola modifica che scatta sempre all'ultimo momento e lì parlando con lì parlando con il mio editor francese e con il mio editor italiano che è poi il direttore editoriale della Coconino Press nonché autore di fumetti a sua volta Igor abbiamo aperto una discussione su un punto che mancava nel mio racconto il mio racconto è ve lo dico brevemente la storia di tre ragazzini che crescono e che passano un'estate assolata quindi fuori da scuola negli anni nel 1993 tra l'altro qui vicino a Capurso paese in cui io sono cresciuto tra l'altro e lì cominciano insomma ad avere i primi pruriti sessuali i primi innamoramenti cominciano a chiedersi chi sono sotto l'aspetto proprio più pulsionale e questo trio di ragazzini vive ciascuno di essi vive delle esperienze molto diverse tra loro c'è chi si innamora della ragazza e non sa come comportarsi c'è chi si innamora della ragazza ed è convinto di sapere come ci si debba comportare ma in realtà nessuno ne sa niente perché non ci sono delle regole precise e c'è un altro il più piccolo che incontra una figura adulta che è un po' misteriosa è un personaggio che vende fumetti che vende fumetti usati e che in qualche modo diventa per questo bambino orfano di padre una figura molto importante solo che non si capisce bene qual è io lo so qual è il rapporto tra loro però non voglio svelarvelo qui c'è questa cappa enigmatica non si capisce esattamente quando e dove comincia e dove finisce l'affetto tra il bambino e l'adulto e Igor e il mio editore francese mi dicevano che questa parte era affrontata con l'aveva affrontata con i giusti toni con la giusta delicatezza solo che mancava dall'altra parte quindi quando in tutte le scene in cui l'adulto non c'è non si vedevano gli altri adulti in tutte le altre scene mi ero concentrato troppo se non esclusivamente nella vita di questi tre ragazzini che fanno che passano praticamente la loro estate che significa giocare mettersi i giochi annoiarsi anche e questa piccola nota ve la racconto perché poi una semplice frase del tuo editor può davvero portare a mettere in crisi la consegna del libro perché dici ah cazzo è vero quindi questa cosa la devo risolvere però non è che la risolvi inserendo all'ultimo secondo a un mese dalla stampa quattro adulti nella storia così senza senza dargli una loro psicologia ben precisa come hai fatto con tutti gli altri personaggi cioè è difficile decidere di 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 ok ora inserisco dei nuovi personaggi però riducendo il tempo di lavorazione di creazione di queste di queste teste qui però alla fine insomma come come faceva il buon Salgari o Salgari Salgari o Salgari è una vecchia diatriba è tutto vecchio etimologicamente Salgari Salgari democraticamente la maggior parte degli italiani me compreso l'ha sempre chiamato come Salgari quindi decidi tu se vince la democrazia o l'etimologia va bene vado per Salgari ok quindi è stato un mese poco più di un mese per la verità in cui io ho ripreso in mano il mio lavoro lavorando la mia storia ho cestinato 40 tavole ne ho rifatte altre 50 in un mese e mezzo più o meno perché c'era questa cosa qui voglio fare una domanda io quando hai finito no no finisci pure sì e questo ha davvero ridimensionato il libro non solo in termini narrativi eccetera ma anche proprio in termini di numero di pagine rapporto con la tipografia cui comunque abbiamo chiesto di aspettare un attimo rapporti anche contrattuali che sono stati rivisti cose piuttosto semplici in realtà non solo ha cambiato la data di consegno niente di niente eccezionale però è interessante insomma come il processo creativo vada a sviluppi poi certo diciamo che i tuoi editor hanno influito insomma anche sullo sviluppo che è il loro lavoro peraltro insomma di editor quindi è giusto che sia così e una cosa se puoi mandare far vedere qualche immagine del tuo lavoro così magari e poi volevo farti questa domanda qua e parlavi prima del tuo lavoro sul male il male è una rivista di satira no in cui lo scopo principale di quello che viene pubblicato è far ridere sostanzialmente ecco cioè è importante ecco la reazione no si deve ridere no l'effetto magari è alle volte più diretto altre meno diretto però e invece per quanto riguarda il signore dei colori e le tue storie non c'è questa questo programma diciamo non c'è una volontà del genere immagino forse poi tu mi contraddirai non so mentre diciamo graficamente però il discorso non cambia cioè voglio dire anche quando fai il signore dei colori il tuo tratto è molto cartonistico è molto che per la nostra cultura italiana cartonistico cosa sbagliata peraltro secondo me significa far ridere allora volevo chiederti come la vedi tu questa faccenda e quali sono le influenze che ti hanno portato a lavorare in questo modo cioè a lavorare in modo molto insomma farsi il testone rotonde come dicevamo ieri sera guarda una cosa che spesso mi chiedono è come faccio a disegnare una storia che va a toccare un tema difficile come quello del rapporto tra un adulto e un bambino e quindi andare a parlare di pedofilia con un segno non infantile ma proprio da cartoon cioè da vecchio cartoon animato ed è una domanda a cui non non ho ancora capito che risposta dare e sicuramente c'è un c'è un bagaglio visivo il mio bagaglio visivo che ha contribuito a formarmi fortemente da da Schultz il disegnatore dei Pinaz e di Snoopy andando a prendere anche autori completamente diversi neanche fumettisti per esempio come Grozze che era un un personaggio magnifico del disegno e della pittura degli anni degli anni 20 e 30 ora sto riscoprendo anche la mia vecchia passione di Giotto che secondo me è stato uno dei primi fumettisti della storia della storia dell'arte e e quindi quello della delle matite Giotto che si vede lì sì lui non quello della cappella degli Scrovelli e quindi magari quando poi sul male mi diverto anche a cambiare cambiare un po' di più la scusate pur rimanendo comunque in un taglio cartonistico io non so perché non va avanti un po' di chissue insomma di fumetto di un agente americano dici no è ok c'è anche un sì sì beh assolutamente tutti gli autori americani da da Chris Suero Daniel Close Barnes che ho conosciuto che ho cominciato poi effettivamente a seguire solo da quando sono arrivati in Italia quindi da quando è nata il primo anno di Coconino Pre sostanzialmente che è stato un anno molto importante dal punto di vista editoriale perché almeno io l'ho vissuta così cioè io avevo quasi addirittura smesso di leggere fumetti e perché non trovavo insomma letture andavo a liceo all'epoca più o meno e nel frattempo io ero cresciuto ero cambiato e non trovavo nelle fumetterie qualcosa che che mi raccontasse in qualche modo qualcosa di di più maturo rispetto alle cose che avevo letto in precedenza ora dire qualcosa di più maturo è anche un po' troppo troppo restrittivo insomma però concedetemela e in Italia si era creato davvero forse un ventennio quasi di buco editoriale cioè non negli anni tra fine anni 80 e primi anni del 2000 sono venuti a mancare è venuto a mancare un lavoro di importazione editoriale di produzioni americane o canadesi ma è comunque in generale di insomma a livello internazionale di capolavori del fumetto cioè di libri che stavano cambiando la scena fumettistica internazionale ma che qua non arrivavano e quindi si era creato una 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 situazione un po' strana tant'è che io proprio non leggevo più fumetti in quel in quel momento poi quando è arrivata la Cocconino poi ci sono state non c'è stata soltanto la Cocconino per carità io vi vi racconto la mia esperienza personale poi magari tu l'avrei vissuta in modo diverso è interessante capire poi magari come l'hai vissuta tu e quando è arrivata la Cocconino io in un anno ho letto ho avuto la sensazione di leggere nella prima annata di Cocconino che era aveva avuto credo una quarantina di titoli nella prima annata ho avuto la sensazione di leggere quei 10-20 capolavori degli ultimi 20 anni del fumetto internazionale e quella cosa mi ha mi ha fatto riscoprire le potenzialità del fumetto non che le avessi mai messe in discussione però c'era davvero una mancanza di stimoli forti per per trovare appunto quella forza e quella determinazione e dirsi ok adesso io faccio un libro di 200 pagine in cui io sono l'autore l'ideatore il disegnatore lo scrittore e anche l'impaginatore magari perché va a finire spesso anche così e tu invece non so come hai vissuto l'ingresso della tu vabbè sicuramente li conoscevi già questi autori prima che oppure non so volevo prima dire un'altra cosa riguardo al discorso far ridere o non far ridere cartonizzazione versus realismo perché proprio con Sagari ho avuto come dire delle blande critiche in questo senso cioè di avere un po' preso in giro questo personaggio disegnandolo proprio come in maniera cartonistica ecco disegnandolo in maniera che veniva letta come buffa come ecco secondo me come giustamente prova anche il lavoro di Roberto cartonistico non significa necessariamente deve far ridere significa semplicemente che usa un lavoro di sintesi maggiore specialmente sui personaggi come lo usa ecco rispetto a noi in Giappone sono molto più elastici in questo senso cioè riescono ad accostare non so un paesaggio disegnato in maniera iperrealistica con un mettendoci dentro un personaggio che è il massimo della cartonizzazione cioè molto sintetico molto ai nostri occhi anche buffo ma l'intento non è di renderlo appunto buffo è semplicemente di renderlo vivo di renderlo in grado di esprimere tutta la vitalità possibile ed è anche il modo in cui ho lavorato io insomma non c'è nessuna volontà di appunto di rendere buffo Salgari ma c'è la volontà invece di renderlo vivace vivo vitale come probabilmente era quindi credo che anche il lavoro di Roberto sia valido proprio in questo senso a me non piacciono i fumetti che per raccontare storie vere devono avere un disegno tristamente realistico e in Italia ne abbiamo fin troppi specialmente adesso che appunto va molto il graphic novel il comic journalism abbiamo fin troppo di fumetto appunto che fa proprio il parallelo diretto è una storia vera quindi disegno in maniera quasi fotografica realistica ma perché non deve essere seriamente così il fumetto può anzi invece anche affrontare temi seri temi drammatici non rinunciando a una vitalità grafica a sintesi a invenzioni ecco questo secondo me è importante noi non siamo molto abituati in questo senso siamo spesso appunto appiattiti su un realismo che direi dire boneliano anche spesso un complimento di solito è anche a un livello anche inferiore sì che poi è davvero uno degli aspetti in particolare per cui mi fanno apprezzare il tuo lavoro è questa scelta di raccontare cose di spessore servendosi della propria sensibilità grafica che magari ha anche qualcosa di ludico di più vitale della semplice associazione fumetto serio disegno serio a me piacciono personalmente autori che creano anche contrasti nelle storie per rimanere su questa cosa mi è venuto in mente mi sono ricordato un aneddoto spero di trovarla adesso mentre vi parlo in uno dei primi numeri del male avevo eccola qua avevo fatto una storia avevo scritto una storia su una ragazza che su una ragazza intorno ai 15-16 anni che crede di cioè che si innamora insomma di un uomo molto più vecchio di lui vecchio insomma comunque un ragazzo sui 32-33 anni e questa ragazza insomma ha le sue prime esperienze amorose e i due ragazzi si incontrano in una discoteca una sera e lei si sveglia la mattina completamente rincoglionita con qualche vago ricordo di quello che è successo cercando di rimettere insieme un po' i pezzi chiamando amiche cercando di concentrarsi su quello che è successo si ricorda qualche dettaglio e capisce di aver fatto sesso con quest'uomo però non ha un ricordo preciso su quello che è successo e mettendo insieme i pezzi si accorge o al sospetto vago quasi inconscio che è stata ubriacata o drogata e poi portata a letto e il meccanismo psicologico feroce autolesionista che questa ragazza si fa anziché indignarsi e incazzarsi per quello che è successo pensa a quel ragazzo che a me piace tantissimo mi ha portato a letto e il giorno dopo che è uscita questa storia mi ha scritto su facebook un padre di famiglia che era mio amico su facebook ma non non ci siamo mai conosciuti personalmente che mi ha fatto intendere insomma di di avere che sua figlia insomma ha avuto un'esperienza simile e mi ha detto guarda io ho appena letto la tua storia stamattina ho letto la tua storia mi ha fatto schifo perché l'hai disegnata come se fosse una storia divertente poi l'ho riletta stasera e mi sono emozionato e questa è poi forse la il risvolto proprio concreto di quello che dicevamo che ha una prima lettura un disegno per farla breve insomma da cartone animato può sembrare una presa di posizione come la scelta dell'autore di trattare in modo superficiale un argomento poi in realtà anche dietro la sintesi c'è una complessità e una forza positiva diversa tant'è che questo signore insomma mi ha mi ha ammesso insomma di aver sentito più o meno le stesse cose che gli raccontava sua figlia aneddoto allegro se vogliamo passare all'altro sì senti volevo anche dire che se ci sono delle domande che provengono dal pubblico o anche da twitter utilizzando l'hashtag link festival iniziatele a fare così insomma cercate di interagire perché essendoci anche dei fumettisti immagino che ci sia voglia anche di fare domande più specifiche o più dirette certo certo non è una conferenza se volete intervenire noi siamo ben contenti anche di grazie allora io rispondo alla prima e poi tu rispondi alla seconda e anche la prima se vuole è vero che in Italia più che il disegno i fumetti sono sono storicamente considerati come dire qualcosi superficiali quando si parla ancora adesso lo leggo ogni tanto sui giornali quando un film è particolarmente diciamo non è Bergman ecco un film particolarmente andante si è un fumettone quindi si fa proprio un parallelo questo aggettivo con quello che intendiamo come fumetti cioè una roba superficiale è stato così per anni ecco ho inteso il fumetto in Italia c'è da dire che comunque io sono cresciuto in Italia negli anni settanta negli anni settanta già era in corso una rivoluzione cioè c'erano degli autori che facevano delle cose straordinarie con i fumetti c'erano delle riviste come Linus per esempio che proponevano dei fumetti con una chiave opposta quindi il fumetto era già allora come dire emancipato ecco tant'è che sentire adesso farmi discorsi del tipo finalmente un'opera che non so no che rende il fumetto emancipato e adulto mi dico cavolo sono passati trent'anni per niente come dire la cosa ecco almeno l'impressione mia è che comunque di strada se ne sia fatta anche in Italia per quanto riguarda i racconti a fumetti per arrivare a giorno d'oggi a una situazione in cui c'è da una parte ancora molto forte un fumetto per il quale peraltro collaboro e lavoro io lavoro anche per la Bonelli un fumetto comunque editoriale da edicola seriale che per molti aspetti segue delle logiche da fumetto seriale da avventura piuttosto che horror piuttosto che eccetera e dall'altra però c'è comunque si è sviluppato insomma un ambito di fumetto così adulto ecco che può raccontare qualunque tipo di tematica direi che la strada è quella ecco poi con alti e bassi sicuramente con momenti di maggiore o minore creatività ecco ma mi sembra che la direzione sia quella sì tra l'altro è una cosa che che mi sono detto anch'io più volte anche perché le mie prime influenze non sono state non sono arrivate insomma dall'ultima ondata e quindi dal graphic novel ma le mie prime influenze forti sono state quella del fumetto italiano degli anni settanta Crepac Stopi Battaglia De Luca e la differenza forse sostanziale tra quella generazione e quella di oggi sotto l'aspetto della appunto della crescita del fumetto e degli argomenti trattati e che in qualche modo lo facevano anche loro e solo che loro erano forse più determinati a far crescere non solo i contenuti ma anche la forma in termini proprio narrativi cioè c'era più sperimentazione forse nella costruzione della storia o nella costruzione della tavola cioè adesso manca un Crepax in Italia un Topi che tra l'altro è venuto a mancare da non moltissimo tempo perché quando si parla appunto di fare del fumetto un linguaggio più adulto bisogna stare attenti a che cosa si intende perché fare del fumetto un linguaggio più adulto non significa semplicemente trattare temi più adulti ma anche essere più adulti nella forma nel meccanismo del fumetto cioè far crescere il potere di questo linguaggio poi per venire alla scelta dei colori dell'arancione e del nero del signore dei colori avevo bisogno di usare una tinta accecante avevo voglia di un colore che in qualche modo facesse sentire l'ambientazione capursese l'estate quindi il sole molta luce palazzi quasi tutti bianchi quindi luce che si riflette dappertutto e allo stesso punto e allo stesso momento questo arancione in particolare proprio questa gradazione di arancione ha anche un se vogliamo ora la banalizzo un po' però ha un ha un significato anche metaforico nel senso che ho cercato di riproporre cromaticamente lo stato mentale di questo bambino che incontra questa figura adulta che è una figura eccezionale perché gli fa leggere i fumetti gli racconta gli fa guardare le cose in un modo diverso è una persona a suo modo affabile quindi è davvero illuminante in qualche modo fino al punto di diventare accecante è spento tutto infatti si spegne tutto ah no perché è arrivata la luna sì quindi sostanzialmente è stato questo poi in particolare nelle se posso darti una risposta se vuoi un po' più un po' più intima le prime tavole che ho fatto di questo libro erano delle notturne che tra l'altro posso farvi vedere delle scene notturne che non sono queste ma sono scusate un secondo beh tipo queste qua mi hanno in mente delle altre ma anche queste qui queste scene notturne anche quelle cavole preferirei farvi vedere quelle ambientate in campagna io mi ricordo che quando eravamo ragazzini forse io ho 29 anni forse la mia generazione è stata l'ultima a vivere il gioco di strada in modo quotidiano io mi ricordo che e tanti di voi si ricorderanno naturalmente che andare a giocare significava insomma andare giù in cortile o per strada allontanarsi anche da casa e tornare a casa anche a mezzanotte ritrovarsi magari in mezzo alla campagna perché io raccapulso o comunque per strada in cui non c'è nessuno però in qualche modo ci sentivamo sicuri non avevamo particolari problemi a restare da soli quando eravamo fuori e questa arancione nelle quando ho disegnato queste notturne cioè questa arancione in qualche modo faceva un po' di luce è come se facesse un po' di luce in queste scene notturne e mi piaceva questo senso di sicurezza che l'arancione mi ha dato e devo dire mi è arrivato così per caso da quel punto di vista non è stata una scelta poi ho cercato di redistribuirlo in modo razionale e logico con le motivazioni che ti ho detto prima però il primo la prima insomma è stata più una cosa istintiva che poi è andata a raccogliere logica perché se ci sono altre domande o se vuoi sì una te la faccio io tecnicamente come hai lavorato come lavori in genere cioè lavori su carta io ho provato un sacco di volte a a lavorare direttamente al computer perché tutti dicono che si fa prima perdo sempre un pacco di tempo cioè non riesco mai a a far valere questa questo mito del se fai col computer fai prima no io sto col computer perdo due ore per per fare qualcosa di pubblicabile che che mi piace che funziona e non riesco davvero a trovare la forma per disegnare in modo sereno cioè non sereno in modo sensato razionale in modo forte e quindi di base poi cambio naturalmente dal tipo di lavoro che sto facendo però di base faccio il disegno a mano la matita a mano l'inchiostro a mano scansiono il colore lo do al computer il colore lo do quasi sempre forché in questo libro qui anche anche il colore fatto a mano anche il colore manuale nel signore di colori naturalmente c'è ci sono dei piccoli interventi poi al computer per esempio i rettini i rettini sono ovviamente digitali i rettini sono digitali e la composizione della tavola la la cioè le provo tutte praticamente prima di quella è una cosa che faccio al computer quella è una cosa che poi metti a posto cioè componi la tavola sullo schermo insomma dopo aver disegnato sì dopo averla disegnata cercando comunque una forma definitiva poi sai quando ci aggiungi il colore i testi poi magari cambi una battuta e quindi cambiando un dettaglio devi cambiare anche tutti gli altri quindi si finisce insomma con cambiare anche proprio la struttura la struttura grafica della tavola la struttura grafica è la struttura narrativa per me è un po' la stessa cosa e ultimamente sto tentando invece di fare solo le matite e saltare gli inchiostri cioè fare soltanto matite e poi colore con photoshop però non ho ancora pubblicato niente perché qualche cazzatina non proprio riuscitissimo la sto ancora mettendo a punto questa cosa e tu invece come quanto photoshop è presente nelle tue tavole io la risposta la so però sì io lavoro ancora su carta poi una volta appunto inchiostrato cioè passato con l'inchiostro sulla matita anch'io scansiono le tavole le scannerizzo quindi le porto sullo schermo e a questo punto dipende cioè se devo per esempio colorare lì a quel punto coloro col colore digitale e nel caso di storie mie anche per me vale il discorso che spesso il computer ti permette di montare la pagina di fare comunque dei cambiamenti di provare diverse soluzioni questa vignetta sta meglio prima o dopo e quindi c'è spesso questo lavoro appunto di smontaggio e rimontaggio di una tavola scansionata e per quanto riguarda però il disegno io sono ancora molto affezionato alla carta ecco quindi faccio veramente fatica come fanno certi colleghi a rinunciare alla carta e a disegnare direttamente in maniera digitale c'è chi ormai la carta l'ha proprio abbandonata del tutto e lavora proprio totalmente in digitale per me è ancora un mezzo importante e secondo me cioè è vero quello che dice Roberto spesso il computer ti fa perdere il tempo più che più che fartelo risparmiare è un mezzo fantastico ma non comporta risparmi di tempo perché appunto dilata esponenzialmente le scelte che devi fare e un po' ti vizia anche ti vizia il fatto appunto che una scelta può essere poi cambiata tutte cose che bisogna decidere una volta per tutte quando si lavora su carta ecco il famoso control z o mela z che ti permette di tornare sui tuoi passi e provare tutte le 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 soluzioni che hai in testa che poi più hai riferimenti visivi più hai letto libri e più ti rovini in qualche modo perché perché dici cazzo lo posso fare lo posso fare con questo taglio qua no ma perché non questo no per quello perché non quello è photoshop photoshop insomma il lavoro il lavoro sul computer in generale ti alimenta questo questo atteggiamento mentale vi faccio io una domanda invece siccome tutta la manifestazione è stata molto incentrata anche sul fatto che abbiamo interagito sia con gli studenti dell'università che studiano scienze della formazione con un indirizzo più votato all'editoria con il master in giornalismo e quindi c'è molta gente che vuole lavorare in quest'ambito ma si ritrova a imparare tante cose ad avere una formazione alta però molto accademica e certe volte ha difficoltà a cimentarsi con la parte un po' più pratica e quindi per un fumettista un illustratore che ha voglia di cimentarsi direttamente con il lavoro quali sono le possibilità insomma come funziona poi il rapporto l'interazione con le testate giornalistiche e voi per esempio come avete fatto a iniziare a lavorare anche con una testata giornalistica quanto conta poi il contatto umano vero e proprio cioè incontrarsi magari alle fiere incontrarsi in contesti lavorativi e quanto conta il proprio book l'inviare un curriculum uno o altro dunque beh di sicuro rispetto a quando ho cominciato io cioè diciamo negli anni ottanta un secolo un millennio fa a oggi sono cambiate tantissimo le cose per esempio allora c'erano un sacco di riviste mensili la maggior parte erano mensili erano giornali che contenevano fumetti so c'era Dalinus che è l'unico forse sopravvissuto a Alter a Comicart a L'Ethernaut L'Ethernaut insomma c'erano moltissimi di questi giornali che davano la possibilità anche a un giovane esordiente di pubblicare e di farlo magari accanto anche a fumettisti famosi no e e quindi di cominciare ecco senza responsabilità enormi cominciare con comunque la garanzia che comunque il giornale aveva un bacino di lettori no la capacità di 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 coinvolgere un certo numero di persone e quindi non ti responsabilizzava troppo adesso un esordiente comincia come per esempio ha fatto Roberto pubblicando un libro di cui è autore completamente cioè con una responsabilità esponenzialmente cento volte maggiore insomma quel libro lì che vada bene o che vada male è tutto insomma sulle spalle dell'autore no e e quindi non ecco secondo me era più facile allora rispetto adesso per per un giovane cominciare a fare fumetti e credo che adesso ci sia una possibilità in più date da magari dai media in più che ci sono per esempio internet appunto uno può mettersi a farsi conoscere tramite il web no allora non c'era questa possibilità e quindi secondo me è anche poco sfruttato in Italia questo fatto ecco di aggregazione di pubblicazione sul web di fumetti mi sembra che non ci sia un granché ecco c'è stata qualche tentativa c'è stata qualche autore che è uscito fuori anche sfruttando questa però in generale non vedo grandissimi ecco movimenti forse sono io distratto magari ci sono e non me ne rendo conto non so Roberto cosa ne pensi e per quanto riguarda il rapporto con gli editori quindi le cose sono molto diverse rispetto a quando ho cominciato ogni tanto si aprono degli spazi che magari non c'erano per esempio lo spazio che c'è alla domenica sul Corriere della Sera è uno spazio sono due pagine del Corriere che mi è capitato di utilizzare due o tre volte in cui si può raccontare una storia diciamo breve essenzialmente una storia di due pagine anche se sono delle pagine però da Corriere quindi molto grandi e che quindi sfruttate nella maniera giusta danno la possibilità di di raccontare una breve storiella ecco sfruttando appunto le dimensioni del giornale e in questo senso ecco quello è uno spazio per esempio che fino a non molto tempo fa non c'era adesso c'è questa possibilità chissà per quanto ci sarà magari al Corriere decideranno domani di rinunciare a questo appuntamento domenicale quindi direi che ecco non ci sono come dire regole immutabili nel tempo l'unica cosa che ritengo cioè che per me è stata una costante lavorare lavorare come dire su due su due tavoli diversi da una parte lavorare su un fumetto popolare bonelliano nel mio caso ma non solo o comunque si tratta di lavorare con altri autori che magari scrivono delle storie e e quindi su dei progetti che hanno uno spazio una visibilità anche maggiore e dall'altra lavorare su progetti miei in cui credo in cui che non mi sono commissionati da nessuno ma che sono appunto progetti che porto avanti da solo e cercare di arrivare in porto con questi progetti a volte ci vuole poco a volte ci vogliono degli anni tipo il caso di Salgari ci ha voluto un sacco di tempo ma alla fine insomma quanto tempo più o meno allora direi che l'idea di partenza risale a più di dieci anni fa ma nello specifico mi ricordo che proprio Igor a Lucca aveva aperto da poco la Coconino e venne a chiedermi se avevo un'idea da proporgli perché appunto apriva una casa editrice con un progetto importante interessante e io ero anche lusingato dal fatto che appunto Igor venisse a chiedermi di collaborare e gli propose appunto senti io avrei questa cosa nel cassetto già da un po' che spero di riuscire a fare prima o dopo e c'è una biografia di Emilio Salgari a Fumecchi Igor era entusiasta dell'idea mi disse guarda quando ce l'hai pronta mi sembra un'idea fantastica ci sono voluti insomma dieci anni ecco perché era il 2001 2002 e quindi ci vuole poco a fare i conti la Coconino era appena nato e non sempre per fortuna ecco ci vuole così tanto portare a termine un lavoro però a volte per noi fumettisti succede cioè spesso le idee insomma hanno bisogno del tempo anche per prendere una forma prego di un'idea 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 sì 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 e tu invece fai anche anche con tutti come diciamo gli altri impulsi americani no o i miei hanno lavorato molto con anche di gente in azione costando i potessi assolutamente ad esempio i due casi il padre il padre il padre gli uomini ma poi gli uoschi che scrivono certamente autoriali però mantenendo un elemento del suo ma poi mi dice che forse in Italia un altro un elemento che renda autore o d'azione diciamo insomma magari questo era buonemico dove fare o una di momento è inizialmente la proposta a dire però riuscivano a si uno dei tentativi probabilmente è quello rispetto a te la vedo un po' più complessa la situazione nel senso non vedo una distinzione così netta nemmeno in Italia anche se appunto in Italia c'è effettivamente un mondo di fumetto popolare bonelliano e poi anche non solo lo stesso Topolino è una rivista storica che c'è ancora in Italia sono fumetti classici disneyani che facciamo solo noi tutto il mondo compresi gli americani però credo che già allora io mi ricordo quando ero ragazzino c'erano i più grandi autori insomma da appunto di nomi che hai citato tu e non solo Battaglia, Toppi, Ugo Pratt e Micheluzzi che pubblicavano su dei giornali per ragazzi estremamente anche popolari insomma appunto per un pubblico di ragazzi ed erano autori di alto spessore quindi ecco io non vedo né storicamente né attualmente una distinzione proprio netta tra quello che è il fumetto diciamo più popolare e quello invece più fico diciamo da autore sicuramente ci sono fumetti diversi ecco questo senz'altro e per anche per pubblici diversi resiste come dicevo prima il fumetto popolare proprio d'avventura classico e ci sono autori che propongono storie anche molto sperimentali molto e c'è un mondo di come dire via di mezzo di mainstream di no di che appunto complica le cose in qualche modo forse anche una fortuna però non so non so come la vede Roberto ma più o meno più o meno come te poi eh devo anche devo anche essere un po' sincero cioè non effettivamente non non seguendo realmente tutto sicuramente mi perdo tante cose e non riesco a poi a a dirti effettivamente eh quanta distanza ci sia tra tra un pianeta e l'altro insomma tra quello del fumetto d'autore e quello del fumetto popolare e mi sembra che la tendenza comunque io conosco di più il fumetto d'autore cioè i miei amici lavorano più eh nell'ambiente del fumetto d'autore che in quello ehm che in quello popolare e la tendenza però un po' è è quella eh che a me non piace di autocollocarsi cioè di auto di autodefinirsi di autodatarsi cioè di ehm di di parlare di sé come autori e soltanto come autori non si usa quasi più la parola disegnatore e forse io sono eh io sono uno dei pochissimi eh disegnatori autori eh che 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 lavora comunque anche sulle pagine del del male forfetti comici eh ce ne sono non sono l'unico naturalmente però c'è un po' di di difficoltà insomma a a muoversi liberamente ma sono difficoltà non imposte dal 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 dalla situazione editoriale cioè sono limiti che eh che le autori stessi si danno insomma limiti limiti significa scelta insomma che le autori prendono e poi io volevo anche eh rispondere anch'io alla domanda di Michele e io ho cominciato a fare fumetti da da quando sono nato praticamente però il eh tra il 99 2000 2001 lo faccio un po' di confusione insomma quando ho aperto il primo blog eh in un momento in cui tanti amici eh fumettisti o illustratori o scrittori o pittori anche avevano aperto anche loro eh il loro primo blog quello è stata quello è stato un momento della durata forse di due anni per come l'ho vissuto io in cui eh il blog è diventato era nato come insomma era nato probabilmente semplicemente da un fine settimana così in cui in cui ti dice ma proviamo a mettere le cose su internet così a me e poi eh è diventato quasi autonomamente eh veicolo di comunicazione tra gli autori e gli editori perché io cioè io e Igor ci siamo conosciuti leggendoci il blog a vicenda praticamente Igor è il direttore della della Coconino Press e e da e da quel momento lì e in quella fase lì eh so di poter dire che anche Tota eh eh Alessandro Tota anche lui aveva fatto il blog e ci scrivevamo tutti tra i commenti nei commenti c'erano anche editori che venivano a scrivere quindi il blog è stato sicuramente un un elemento forte ora penso che in qualche modo invece la rete in questo settore ehm si è diventato meno determinante a creare rapporti non non dico di lavoro però a preparare poi il terreno in cui ci si conosce e poi si mette insieme anche un un progetto editoriale e non 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 sono un 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 esperto di fenomeni online quindi non non vi propongo una lettura è una una mia opinione in merito però è interessante insomma vedere come eh dieci anni fa quando detta così magari la rete era ancora più acerba rispetto ad oggi per me è diventato fondamentale cioè è stato un momento fondamentale per avere i primi contatti con editori e invece adesso che la rete è più veloce in termini proprio anche proprio la DSL e la fibra ottica insomma è un po' più diffusa e i sistemi di comunicazione si sono aggiornati il blog ormai è una cosa vecchia ci sono facebook twitter io non ho non ho non ho più questa sensazione eppure io comunque ho il mio account su facebook ho il mio account su twitter con su twitter per la verità non lo uso tantissimo però non ho la sensazione eh che ho avuto appunto dieci anni fa cioè quella di eh contatto eh con gli editori o comunque con gli operatori vale tanto per chi si cimenta adesso a fare fumetti a far vedere la faccia cioè a girare un po' nei festival cioè si rischia davvero di di essere dimenticato se ogni tanto non almeno io lo vivo così eh se ogni tanto non 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 vai a ricordare il mondo che esisti andando a fare eh andando a farti anche semplicemente un giro al festival di Lucca o al festival di Napoli o venire qui eh però non so no 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 è mi ha sempre creato un po' di 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 perplessità questa cosa che eh che la rete si è perfezionata però eh oggi mi mi appare meno determinante poi nell'unione tra eh le due sfere del editoriale dell'autore e l'editore insomma noi in questi giorni abbiamo parlato tantissimo di come è cambiato il giornalismo in funzione proprio dell'interazione con i lettori di come sia cambiato il ruolo dei lettori che da essere passivi eh sono diventati anche molto attivi tanto da essere stato coniato negli Stati Uniti in termine di prosumer per appunto i lettori che diventano protagonisti abbiamo parlato di eh citizen journalism e quindi del ruolo della società civile all'interno del del giornalismo e di come poi diventa labile il confine tra giornalista e lettore o comunque creatore di contenuti eh tu stavi dicendo che il il blog in passato ha avuto un'importanza fondamentale e lo vedi superato però mi sembrava interessante cercare un po' le linee di come si è smarcato anche da un clima di veramente di sottobosco indipendente il fumetto in Italia anche grazie al proprio ruolo che hanno avuto i blog nel senso che sono riusciti anche a sdoganare alcuni autori a farsi conoscere inizialmente soprattutto a creare una rete tra gli stessi fumettisti in maniera digitale cioè fumettisti che tra di loro non si erano mai visti mai sentiti hanno iniziato a fare rete hanno iniziato a anche facilitare l'incontro face to face grazie ai blog innanzitutto oggi le cose sono leggermente cambiate ma io ricordo cinque anni fa c'era insomma un bel fermento anche grazie ai blog possiamo rianalizzare il modo in cui voi vi siete approcciati poi a questo strumento e come state utilizzando oggi internet e appunto il blog per quanto mi riguarda ho aperto anch'io un blog legato al libro su cui stavo lavorando appunto sui Zagari e l'ho fatto per un motivo preciso e determinato in inglese si dice territorial pissing e cioè sto facendo questa cosa state alla larga e la mia idea era proprio che aprendo il blog cioè rendendo pubblico questo lavoro come dire marcavo il territorio cioè in questo caso il tema su cui stavo lavorando una biografia di un autore che di per sé può fare chiunque e anzi magari prima o dopo ne uscirà qualcuno o qualche altro comunque la rendevo pubblica e quindi in qualche modo facevo marcavo il territorio e sapevo che mi sarebbe voluto ancora molto tempo e quindi l'idea di aprire un blog era proprio legata a questo ecco molto un motivo molto preciso e determinato col tempo però il blog è diventato anche un modo per come dire per aprire una finestra sul mio lavoro ecco per chi fosse interessato fossero autori colleghi lettori o editori comunque il blog mi dà una la possibilità appunto di far vedere quello che sto facendo alcuni aspetti del mio lavoro e quindi diciamo che rispetto alla ragione di partenza si è un po' si è un po' allargato ecco il raggio d'azione di questo blog non so io non saprei dire rispetto alla perplessità di Roberto quanto un blog può essere visibile da parte può aiutare un autore a farsi vedere l'impressione che ho è che magari rispetto ai primi tempi si c'è una come dire una invisibilità che è data proprio dalla quantità dalla mancanza di limiti proprio dalla crescita di internet esponenziale quindi quello che prima sembrava magari una cosa di un metro quadrato adesso è diventato un centimetro quadrato quindi meno visibile proprio perché l'internet è cresciuto nel frattempo si è dilattato in maniera esponenziale e immagino continuare a farlo credo però sia comunque un territorio c'è una possibilità di comunicazione importante per noi fumettisti che influisce su sia per chi fa fumetti direttamente sul web che li fa ancora sulla carta comunque influisce su tutti quanti ecco perché su internet si trovano recensioni di fumetti si trova gente che parla di fumetti anche fumetti appunto su carta e quindi è comunque un media che va a va a influenzare senz'altro anche quello che è un media molto come dire più piccolo un po' più vecchiotto che sono appunto i fumetti io invece avevo aperto appunto il mio blog forse nel 2000 adesso è praticamente diventato semplicemente quella roba prima pubblicavo robe mettevo i miei disegni adesso è un blog più o meno abbandonato perché in qualche modo è stato sostituito da facebook e adesso quello che prima metti sul blog lo metti direttamente su facebook il blog è diventato un po' quella roba in cui pubblico le notizie un po' più quelle istituzionali cioè ho pubblicato questa cosa è in edicola oppure è in libreria domani sono al festival eccetera mentre su mentre prima era quel contenitore in cui mettevo anche gli schizzi eccetera poi è anche una cosa un po' forse che si fa in età adolescenziale poi per varie ragioni non si fa più o si fa meno io ora il blog è più o meno una vetrina insomma non c'è quella vitalità poi nella parte commenti che c'era fino a qualche anno fa e non solo nel mio vi sto parlando proprio dei blog di questi autori trasferendoci poi su facebook forse si è persa proprio questa dimensione il blog in qualche modo diventava anche il blog di un autore la voce di un autore erano blog in cui non necessariamente si pubblicavano disegni si poteva anche semplicemente scrivere parlare di fumetto di racconto di narrazione di costruzione di una storia e tutto quello che ci può essere intorno a questo lavoro trasferendoci forse poi su facebook si è persa un po' la la sensazione di unicità di questo di questo lavoro e probabilmente questo va a toccare non soltanto il mio settore perché prima entrai in un blog che significava dedicarsi solo a una persona cioè immergersi nel lavoro di un solo autore e invece adesso aprire un social network significa porsi di fronte a una moltitudine e e boh credo che questo abbia sì devo dirlo ha in qualche modo danneggiato il dialogo tra fumettiste e autori perché devo essere sincero comunque in quella stagione lì in cui sono venuti fuori un po' di blog probabilmente anche alimentato da un'editoria che cominciava a sperimentare cose nuove la nascita di alcune case editrici la nascita o l'importazione del termine graphic novel tutto aiutava a creare un po' di fermento in più e adesso non so io non conosco conosco ventenni che fanno fumetti ma nessuno mi dice che attraverso facebook insomma ha trovato lavoro ha trovato una una commissione o comunque ha conosciuto una persona importante che poi magari incontrerà fisicamente al festival e da lì magari si parla di fare un libro non ho mai sentito questa cosa qui attraverso blog invece qualcosina si muoveva e c'è una domanda che è arrivata da twitter la fa Daniela Lella dice in base a cosa scegliete di fare un fumetto bianco e nero o colorato e vari vari fattori in alcuni casi la scelta non c'è per esempio per quanto riguarda Bonelli tradizionalmente i fumetti Bonelli per fortuna sono per lo più il bianco e nero che a me piace tantissimo devo dire che sono molto affezionato al bianco e nero mi sembra il fumetto ridotto nella sua forma più essenziale e nello stesso tempo anche più affascinante quindi spero di continuare a fare dei fumetti anche in bianco e nero e per quanto riguarda il colore spesso lo si sceglie diciamo che la maniera migliore di sceglierlo è legata alla storia che si racconta per esempio mi è capitato di disegnare una storia ambientata un noir ambientato a Cuba tratto da un romanzo noir appunto di Daniel Ciavarria una sorta di commedia e l'ambientazione cioè l'Havana diciamo mi obbligava quasi a lavorare anche col colore quindi la scelta è stata appunto di fare un fumetto a colori però ecco spero mi piace molto lavorare col bianco e nero spero di poterlo continuare a fare insomma almeno al 50% ecco io invece ho forse la possibilità editoriale di poter scegliere di volta in volta se farlo a colori o in bianco e nero cioè non lavorando per Bonelli o per altri editori che hanno che impongono insomma che hanno adottato questa scelta e quindi mi trovo sempre di fronte alla al dover prendere la scelta se colorare oppure no che poi per la verità non è che la suddivido così cioè se colorare oppure no cioè non esistono milioni di sfumature tra un fumetto a colori e un fumetto in bianco e nero e ci sono mille modi di fare il bianco e nero ci sono mille modi di colorare e nella maggior parte dei casi utilizzo il colore in qualche modo a questa domanda ho risposto anche prima quando ho spiegato il motivo per cui ho utilizzato quella gradazione di arancione cioè il fumetto è fatto di poche cose una tavola di fumetto è fatta di poche cose è fatto di disegni di chiaroscuri o retini è fatto di qualche balun i testi dei baluni i bordi delle vignette lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra e se ci vogliamo mettere il colore anche il colore quindi sono poche cose che la combinazione di queste deve creare deve creare un clima deve emozionare il lettore quindi la scelta se farlo in bianco e nero o a colori dipende proprio dalle intenzioni espressive che la storia mi chiede se posso sfatare magari un logo comune come hai fatto già un po' tu probabilmente non è che il colore serve per rallegrare necessariamente la tavola non è che il fumetto in bianco e nero è un fumetto a cupo è un fumetto a colori più divertente o leggero da legge io volevo continuare proprio sul mestiere la professione se poteste approfondire un po' il tema di come avviene poi l'interazione con le redazioni ad esempio che è molto più veloce che abbia delle dinamiche completamente differenti rispetto a quello del rapporto con per esempio Labbonelli dove comunque i tempi sono leggermente più prolungati cioè un lavoro con una testata giornalistica prettamente giornalistica magari proprio con un quotidiano come si sviluppa? Quali dinamiche ha? Quali regole? Quali tempistiche? Comincio io? Le tempistiche ma è come dicevo un po' prima parlando del male sono sempre molto contenute cioè si tratta proprio di qualche giorno posso fare l'esempio per esempio della lettura che citava prima Paolo l'inserto domenicale del Corriere della Sera che ha questi due paginoni giganteschi davvero non c'è tanto altro da spiegare cioè su un settimanale come il male effettivamente succede qualcosa perché avendo l'impegno di dover uscire ogni settimana il rapporto tra me autore e la redazione che nel mio caso è una mail o un telefono perché non vivo a Roma e è fatto di vabbè ormai c'è un rapporto più o meno di fiducia io dico a loro che consegno le cose all'ultimo secondo perché mi lascio la possibilità di fare cose su quello che sta succedendo durante la giornata e loro mi lasciano lo spazio sull'impaginato delle telleriviste naturalmente non è stato così fino al primo giorno il primo giorno magari mi prendevo tre giorni per fare queste tre quattro tavole e mandavo prima le matite non tanto per fargli vedere il disegno è una redazione che mi ha sempre lasciato lavorare mi ha sempre fatto prendere le mie scelte grafiche stilistiche senza nessun problema però inviare le matite era solo un modo per consentire alla redazione di capire come impaginare tutto il giornale io poi sono uno che rompe abbastanza i coglioni alla redazione del male perché non gli mando semplicemente il fumetto le tre taure di fumetto ma dico anche se deve cominciare a pagina dispari o a pagina pari e questa cosa li mette sempre un pochino in difficoltà però anche per questo motivo poi la storia funziona di più o funziona di meno quindi si prendono anche loro la responsabilità di darmi quel tempo necessario per farmi capire se devo cominciare da pagina dispari o pagina pari che per loro significa tanto cioè è una richiesta importante in un settimanale che deve che cambia più o meno ogni ora perché le notizie corrono gli eventi hanno i loro sviluppi la pubblicità su un giornale richiede i suoi spazi fissi quindi dover organizzare sempre i materiali e c'è avere pure l'autore rompipalle che ti dice eh aspetta devo ancora decidere se cominciare da pagina dispari a pagina pari in genere cominciare da pagina da pagina pari quindi un pochino si aspettano sempre questa scelta ma non è sempre così mi capita per la verità di non di non sapergli dire neanche quante tavole eh gli consegnerò e magari dico te ne mando tre ma può diventare anche quattro perché sono ancora in fase di scrittura della storia o magari anche o anche finita ma può anche succedere che poi quando la vado ad inchiostrare a colorare tutto prende una forma diversa mi accorgo che è una battuta una battuta non necessariamente comica cioè una frase un dialogo eh dal momento in cui il disegno viene perfezionato colorato eccetera eh scade perde di potenza e quindi ho bisogno di allungare e niente è un è uno scambio di bestemmie da una parte e dall'altra perché comunque l'ansia di chiudere il giornale e la mia ansia di chiudere bene le mie tavole eh ci porta comunque a a perdere il controllo ogni tanto però c'è questo rapporto di fiducia che ci permette di 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 mandarci a quel paese anche serenamente insomma sappiamo che poi quando si chiude il giornale siamo tutti contenti non è non è un dramma i temi sono sempre a tua discrezione o c'è anche una scelta tematica che coinvolge tutti gli autori in determinato no no i temi sono sempre a mia discrezione e ci sono stati dei numeri speciali eh in cui mi avevano chiesto di fare per esempio c'era ora non mi ricordo bene una cosa su Napolità anzi quando ha sciolto le camere eh poco prima della nascita del governo Monti e eh avevano fatto questa questo numero speciale del male che bisognava chiudere praticamente su su due piedi e dovevo uscire il giorno dopo o due giorni dopo e e non ho partecipato semplicemente perché non in genere non non faccio fumetti come dicevo ma sono un politico in generale o su un evento eh proprio che il giorno dopo non 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 è più la vita del nostro paese praticamente quindi eh soltanto quello quello sul Papa se vuoi è stato è stato un un evento comune a tutti quanti per il resto oltre a fermi a lasciarmi libero nella scelta del tema mi lasciamo più libero di 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 costruire la storia parlando di professione non possiamo non parlare anche di economie non adesso non voglio entrare nello specifico di quanto guadagnate chiaramente però eh vorrei dare l'idea di quello che è la necessità dal punto di vista professionale eh di ampliare le proprie vedute cioè realizzare un volume realizzare un graphic novel non significa necessariamente poter eh essere come dire indipendenti economicamente autonomi economicamente esclusivamente dal graphic novel i numeri in questo momento se non a pochi autori eh insomma non lo consentono non lo rendono facile quindi quali sono le modalità con cui eh un una persona che fa di questa attività il proprio mestiere si deve eh districare cioè per soprattutto per qualcuno che adesso agli inizi sarebbe opportuno sapere qual è stato il vostro percorso per arrivare a rendere questa passione eh il vostro lavoro eh entrambi eh siete partiti molto giovani eh adesso eh avete come dire già compiuto un percorso che vi ha permesso eh di rendervi appunto di fare di questa professione il vostro lavoro ma quali sono le difficoltà quali sono poi le modalità in cui eh con cui bisogna cimentarsi puoi rispondere ma sì eh direi che per quanto riguarda la mia esperienza eh diciamo che in Italia c'è appunto un editore come Bonelli che ti permette di fare fumetti di guadagnarti da vivere stante che devi fare un certo tipo di fumetto popolare ecco seriale per lo più e molti autori tuttora insomma si si fanno questo lavoro dal punto di vista professionale da molti anni per un editore così che è molto serio anche da questo punto di vista e gli permette appunto di lavorare facendo fumetti disegnando fumetti o scrivendo fumetti e nel mio caso appunto io ho cercato di gestire questa parte del mio lavoro che devo dire anche creativamente trovo molto stimolante sono stato anche fortunato perché non mi è capitato di lavorare tipo a non so a Tex o a Dylan Doc cioè a personaggi molto noti ma anche come dire con delle regole molto ferre insomma per quanto riguarda la rappresentazione ma ho lavorato su delle serie minori come Napoleone come Yandix che magari non avete mai neanche visto però comunque che erano serie bonelli che uscivano ogni mese o ogni due mesi ma che sulle quali c'era un controllo meno minore ecco quindi c'era da parte mia maggiore libertà di magari di cambiare una scena che mi sceneggiatura o discuterne con l'autore no proporre delle idee alternative e anche dal punto di vista grafico fare cose poco bonelliane non so per esempio rompere la gabbia bonelliana che di solito è da tre strisce regolari no e quindi cambiare anche il ritmo della storia no cambiare fare cose del genere ecco e quindi ecco dal punto di vista diciamo economico lavorare con un editore così ti dà una certa tranquillità cioè ti permette di fare fumetti e di vivere facendo il fumettista per quanto riguarda i graphic novel i cosiddetti libri se uno li pubblica solo in Italia è veramente dura perché non c'è un editore che abbia la possibilità di garantire a un fumettista che sta preparando un libro mettiamo di non dico di mille pagine come fa Craig Thompson dei Stati Uniti che ha fatto un libro di mille passapagine che ha avuto dal suo editore un anticipo che gli ha permesso di lavorare degli anni su un libro appunto di di dimensioni bibliche proprio nel senso che ha la stessa come dire numero di pagine quasi di una bibbia e di farlo in tranquillità insomma perché appunto aveva alle spalle un editore che gli permetteva ecco in Italia è difficile o si lavora con un editore francese per esempio allora lì il discorso cambia cioè c'è un anticipo che è più insomma ti permette di ragionare più sul appunto poter lavorare al tuo libro con una certa calma altrimenti bisogna inventarsi qualcosa cioè bisogna inventarsi anche un'attività parallela che ti permetta però di avere il tempo di portare avanti il tuo libro ecco perché appunto l'editoria di fumetti in Italia non è quella insomma da libreria non è abbastanza non ha le dimensioni necessarie per garantire a un autore un anticipo che che sia sufficiente a finanziare ecco lavorare esclusivamente ad un libro per un numero per un tot di tempo è sufficiente e sì beh confermo tutto cioè in Italia è impossibile vivere di graphic novel in Francia la situazione è un pochino diversa è vero che ti che ti permettono insomma di avere un anticipo che ti fa stare un pochino più tranquillo c'è da dire che però almeno da quello che sento dire in giro che anche in Francia adesso anche la Francia ha avuto un calo editoriale noi l'abbiamo avuto del 20% in Francia nell'anno scorso abbiamo avuto un calo del 20% del graphic novel in libreria e in Francia ora non conosco le dimensioni del di questo impoverimento però insomma non va benissimo neanche lì io personalmente di graphic novel per la verità ne ho fatto soltanto uno quindi non mi sono arrischiato più di tanto parallelamente al mestiere di fumettista rimango e rimanendo in ambito visivo faccio illustrazioni faccio grafiche mi capita anche di fare qualche graphic motion e quindi insomma si cerca di inventarsi lo stipendio ogni mese facendo trovando insomma prolungamenti dell'attività di fumettista andando a invadere altri campi altri settori quindi Paolo ha una storia diversa e vive penso insomma soltanto del mestiere di fumettista non hai una seconda vita insomma sono ancora arrivato a prostituirmi ma io invece ci sono quasi o perlomeno non in maniera diretta in maniera magari intellettuale ma non diretta no mi capita di tanto in tanto di fare anche lavori di illustrazione questo sì di insomma beh sì ma questo in generale un po' tutti i miei credo che sia sì credo che sia una parte del nostro lavoro magari capita che non so l'editore per esempio Feltrinelli ho visto stamattina c'era una copertina che ho fatto di un libro Feltrinelli capita di fare un manifesto per una manifestazione oppure per non so per un Deplian fare un disegno ecco che cose del genere ecco può succedere sono lavori che si fanno normalmente e rientra nell'ordine delle cose non so se ci sono nel frattempo delle altre domande se no io farei un'altra diciamo un'altra mezzoretta così di chiacchierata e volevo anche che spiegaste qual era l'idea originaria di workshop in maniera che magari in un altro momento riusciamo a realizzarlo prendendo delle anche delle iscrizioni qual era l'idea che avreste svolto oggi? Ma l'idea era quella appunto di simulare una commissione frenetica di un e quindi portare i partecipanti al workshop a costruire a ideare costruire e disegnare e magari anche colorare una storia di di due pagine in due ore naturalmente quando c'è poco tempo per consegnare una cosa sono consentiti tutti gli escamotaggi di questo mondo per per chiudere una cosa in due ore senza diventare matti e l'idea era appunto quella di dare due ore di tempo su tre tracce da che il partecipante avrebbe potuto scegliere la prima era appunto quella della realizzazione di due tavole per l'inserto del il Corriere della Sera la lettura quindi due tavoloni che vanno poi lo dicevi anche tu prima e lì diventa impegnativo perché cioè i cometti sono così il formato quotidiano è gigantesco e sembra di tornare ai primi anni del novecento con i pionieri del fumetto quando il fumetto è nato sulle pagine dei giornali poi ci sono milioni di storici che possono contraddirmi perché è aperta ancora questa cosa non si sa quando è nato il fumetto e quindi insomma la realizzazione di due tavole a colori per quanto riguarda la lettura perché un giornale con che ha un occhio particolare sull'illustrazione e sugli illustratori ha un corpo di illustratori importanti molto bravi è un la direzione artistica del Corriere della Sera già da anni insomma ha indicato questa scelta di puntare sul colore per quanto riguarda l'illustrazione e in qualche modo l'inserto della lettura e le due pagine dedicate al fumetto si vede che hanno questo che hanno questo retroterra dal punto di vista della direzione artistica poi c'era la realizzazione di due tavole per un giornale satirico in cui bisognava appunto inventare una storia su un fatto accaduto in questi giorni se non addirittura oggi comunque affrontandolo anche in maniera generale l'ingovernabilità poteva essere una di questi o le larghe intese insomma avremmo lasciato comunque a voi la scelta sull'evento del giorno della settimana e poi il testo di una canzone a fumetti che forse tu hai fatto addirittura un libro una canzone una quattro che non è sui test delle canzoni a fumetti un po' però sì l'idea era di prendere appunto una canzone a me è successo di farne qualcuna anni fa per un libro che si intitola appunto canzoni in a quattro che in realtà è una raccolta di robe diverse però prendere il test di una canzone e raccontarlo a fumetti ecco naturalmente ci sono canzoni che si prestano di più altre meno però alle volte escono fuori anche cose divertenti è una cosa che hanno fatto non l'ho fatto solo io hanno fatto anche autori ben più importanti viene in mente Robert Crambell che ha fatto dei fumetti molto belli appunto facendo questo lavoro di partendo da una canzone raccontare appunto usando il test appunto come sceneggiatura per il proprio fumetto questo ecco era un esercizio che poteva essere divertente da fare anche in un tempo ristretto insomma limitato parlando poi di editoria e di editori quindi questo non è un periodo buono neanche per gli editori di libri voi avete lavorato entrambi avete collaborato entrambi con Coconino Press che rappresenta comunque un unicum sul territorio nazionale con i suoi pro e con i suoi contro tra l'altro volevo che faceste una piccola analisi anche di qual è il sistema editoriale come funziona in questo momento quali sono le sue caratteristiche in Italia qual è anche il gap per esempio rispetto a quello che succede in Francia o in Inghilterra e una possibile addirittura soluzione come vedete cioè quelli vedete che siano i punti deboli e come pensate che si possa insomma venire a capo di una situazione editoriale che non è davvero idilliaca beh guarda per la verità è anche vero che negli ultimi anni sono nate sono nate anche altre case editrici oltre alla Coconino Press adesso abbiamo anche Baupublishing Rizzori Lizard e in qualche modo quello che fino a qualche anno fa forse era un monopolio di Coconino Press per quanto riguarda il graphic novel adesso ora la situazione è cambiata insomma è diversa e per me lavorare con Coconino o con Atrabil in Francia significa significa sostanzialmente appartenere a un catalogo che mi piace cioè a un catalogo di titoli e di autori di cui io sono sempre stato lettore anche prima di cominciare a pubblicare per queste case editrice poi naturalmente non è che mi piace e tutto e non so cioè vuoi chiedermi qualcosa proprio di tecnico in particolare su no per esempio vorrevo che facesse un parallelo tra quello che è successo a Coniglio Editore e quello che è accaduto a invece a Coconino Press cioè Coniglio in questo momento ha interrotto le attività invece Coconino comunque ha intrapreso una linea editoriale che le permette in ogni caso di essere un punto di riferimento in Italia e magari fare un parallelo rispetto ad altri editori analizzando magari le cose positive del mercato italiano e le cose che invece non vanno bene provando anche a stimolare una riflessione costruttiva tu sai molto di più degli affari di Coniglio Editore ma in realtà no non molto di più l'impressione che ho io è che Coconino prima di altri abbia scelto in maniera coerente in maniera come dire con un progetto a lungo termine anche progetto e anche con la capacità di farli questi libri no di ha scelto decisamente di puntare appunto sul graphic novel cioè sul libro fumetti che va in libreria e ha avuto anche un riscontro insomma direi più che decente in un paese come l'Italia dove i libri è comunque difficile venderli per chiunque no o per chiunque non sia Fabio Volo perlomeno non so e quindi dietro il successo di dopo il successo ecco di Coconino con l'esempio di Coconino sono venuti anche altri editori editori anche magari sia piccoli editori sia editori grossi che hanno scelto appunto per esempio il caso di Lizard la Rizzoli ha ha preso questa casa editrice che era una casa editrice creata da Hugo Pratt e l'ha fatta diventare una appunto una sotto una casa editrice a Rizzoli per appunto puntare su quello che è il libro a fumetti e lo stanno facendo anche molto bene Bao Publishing è un altro esempio di editore che è nato da pochissimo eppure ha già fatto dei titoli delle cose ha già mosso parecchio il mercato e quindi direi che al momento non c'è solo Coconino ma c'è come dire una galassia di editori grandi medi e piccoli insomma che si muove in questo ambito per cui uno che ha un progetto di grafinovena che in Italia forse può anche dare un'occhiata intorno e scegliere quello che gli sembra l'editore più adatto al proprio lavoro a me è successo di collaborare con più di uno di questi editori e nel caso di per esempio di Sweet Salgary sapevo già che volevo che fosse Coconino l'editore perché avevo proprio in mente fisicamente quel tipo di libro lì cioè volevo che fosse così anche fisicamente che avesse quella carta lì che avesse quella sensazione tattile quell'odore lì insomma e quindi sapevo che con Coconino sarei riuscito a era l'editore giusto per arrivare a questo risultato e quindi l'ho scelto proprio con cognizione di causa e in altri casi magari la scelta può essere diversa e nel caso di Coniglio il discorso è diverso Coniglio è un editore sui generis che al quale tra l'altro io devo anche qualcosa perché più o meno a metà degli anni 90 era il mio unico editore e all'epoca il Coniglio faceva una rivista di fumetti erotica cosiddetta che si chiamava Blu però era un editore come dire a cui piacevano i fumetti per cui non era obbligatorio disegnare tette e culi ecco nei propri fumetti persi pubblicati su Blu sembra come dire non c'era una censura al contrario ecco che ti obbligava a mettere scene di sesso nei fumetti tant'è che su Blu ho pubblicato le prime storie di un personaggio che tuttora porto avanti che si chiama Zeno Porno ecco che di pornografico ha solo il cognome e che è una specie di alter ego ecco di insomma uno sceneggiatore che si muove in una Milano dove vivo anch'io insomma quindi tra il Veneto e Milano che ha molto a che fare anche con in cui riverso molte delle mie esperienze anche personali è un personaggio comodo che porta avanti tuttora ecco Coniglio è un editore appunto che ha avuto varie disavventure e quindi è morto e risorto parecchie volte sotto diversi nomi e quindi attualmente appunto Michele parlava appunto delle sue difficoltà non mi stupirebbe che saltasse fuori di nuovo sotto altre vesti un domani perché è già successo Comunque Roberto ha avuto cioè vorrei che dicesse anche Roberto qualcosa su Coconino dato che una delle prime cose che hai fatto è stato su Black tra l'altro una realtà che poi si è interrotta ma un'esperienza editoriale comunque è molto interessante si Black ha davvero consentito di Black mi spiego prima cos'era era una rivista libro formato 17x24 quindi quello del comic book la cosa che rendeva questa rivista una rivista non solo bella da leggere ma interessante è che pubblicava i grandi maestri della scena internazionale e allo stesso tempo proprio tra una pagina e l'altra tra un capolavoro e l'altro anche il lavoro di un esordiente che magari non aveva pubblicato assolutamente niente prima di apparire sulle pagine di Black e la 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 mia storia la mia storia su Black infatti è stata la mia prima storia pubblicata e numero 7 8 uno degli ultimi numeri di Black che poi è arrivato fino al 12 11-12 si aveva avuto qualche uscita speciale così e Black aveva permesso anche di prima vi raccontavo insomma di questo buco che c'era stato c'erano tantissimi fumettisti americani giapponesi canadesi che per anni hanno sfornato capolavori ma che noi in Italia non abbiamo mai importato non abbiamo mai tradotto quando la Coconile è nata sono arrivati tutti in una volta Black faceva un pochino da specchio e da sintesi della linea editoriale di Coconino Press cioè pubblicava una parte o i primi capitoli di questi libri e contemporaneamente anche la storia di Roberto Laforgia che non lo conosceva assolutamente nessuno quindi ci metteva aveva messo un po' tutti noi subito in gioco insomma ci aveva subito collocati in quella sfera lì in quella dimensione lì cioè io pubblicavo a fianco a Setta a D&A Close a Charles Barnes ed era la mia prima pubblicazione cioè c'era qualcosa forse di un po' inedito per quanto riguarda la mia generazione che non è cresciuta leggendo le riviste cioè io sì ma leggevo riviste che erano ormai morte da tempo perché mi ero pescato tutti i numeri arretrati nel comitato dell'ho usato quindi quando Paolo parlava per esempio di comic art o anche di blu ma possono metterci anche cortomaltese c'era un sacco di produzione da edicola forse la mia generazione l'ha vissuta solo per un po' attraverso Black è comunque stato poco perché vi sto parlando di una di una rivista che usciva due o tre volte all'anno insomma però c'era così tanta sete di di leggere cose nuove o anche solo la la speranza di avere insomma una rivista in cui finirci dentro insomma questa cosa aveva acceso un po' aveva receso un po' gli animi almeno tra me e i miei amici che ora continuano ad essere che continuano a fare questo mestiere poi il mio rapporto con Coconino è continuato attraverso la creazione di una di un'altra antologia che non era che non era Black che non seguiva assolutamente l'impostazione editoriale che era stata scelta per Black e avevamo curato tra l'altro con con Michele e questo volume sul che si chiamava gli intrusi ed è stata un'operazione molto interessante inedita per Coconino e forse in generale non non è stata mai fatta o non è stato mai fatto un esperimento del genere nell'ambito di un rispetto d'autore noi abbiamo invitato un gruppo di cinque fumettisti tra i quali c'era anch'io io figuravo sia come autore che come curatore del volume abbiamo invitato cinque fumettisti nella provincia di Bari per qualche giorno con lo scopo insomma di fargli scrivere delle storie inventate quindi non di cronaca o di leggende baresi cose del genere storie inventate da loro da fare a fumetti e da ambientare nei territori che avevano che avevano visitato contemporaneamente c'erano anche degli inserti di natura diversa avevamo inserito anche una galleria di ex voto ora purtroppo non ho qui le pagine degli intrusi forse sì anzi sì però devo beccare se ce l'hai al volo perché va benissimo insomma la cosa che è piaciuta di questo esperimento è che è un esperimento del 2007 è piaciuta la scelta degli autori assegnati a un compito che è quello di girare per l'Italia e scrivere una storia su una città in particolare o su un paese di provincia in particolare che non era molto comune nella comunità del fumetto d'autore almeno per come l'abbiamo vista noi questo è quello che ci è stato detto il motivo per cui è piaciuta un po' questa sorta di umiltà dell'autore cioè quella di alzare il culo andare a vedere un posto e anziché superando insomma questa questo luogo comune dell'autore che sta chiuso a casa su ad aspettare l'ispirazione e dopodiché dopo l'esperienza degli intrusi c'è stato il rapporto con Coconino si è interrotto per un po' di tempo perché io ho cominciato a lavorare sul mio graphic novel e contemporaneamente facendo anche altri lavori il signore dei colori è durato il lavoro del signore dei colori è durato circa cinque anni quindi dal precisamente dal 2007 al 2012 quando è stato pubblicato e è lì con il signore dei colori insomma abbiamo stabilito anche un rapporto diverso anche perché era una monografia gli intrusi forse è stata la cosa più più bella che ho fatto cioè dal punto di vista di 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 azione editoriale di progettazione perché oltre alla alla scelta degli autori insomma che erano gli autori che ci piacevano che continuano a piacerci naturalmente e ci piaceva proprio l'idea di raccontare un territorio superando gli stereotipi che per forza di cose si vengono a creare in tutte le parti di questo mondo e c'era il rischio avremmo potuto fare un libro pseudo di pseudo promozione al turismo nella regione Puglia avremmo potuto fare il solito fumetto noir che deve vedere per per forza le regioni del sud sotto minacciate dalla cappa della mafia e abbiamo raccontato storie chiacchio ha raccontato una storia quasi onirica io ho scritto una storia di ragazzini di ragazzini nella e delle e di che cosa succede quando il territorio del gioco è il gioco per strada quindi il territorio e Pasquale Laforgia ha scritto una storia di un scrittore che va a dove era quella di Ale? A Molfetta ad Altamura che va ad Altamura a scrivere a raccogliere materiali spunti e idee per scrivere un libro su Altamura quindi ha fatto questo gioco un po' metalinguistico è come se fosse un po' lui quel personaggio che vive l'esperienza degli intrusi cioè quella di andare ad Altamura perché tutte le persone tutti gli autori hanno visitato i posti fisicamente e Amanda Vamachi l'unica non italiana del gruppo anche lei ha scritto una storia ambientata a Bari e ci fa vedere una Bari inedita che non abbiamo mai visto come se arrivasse davvero da dai territori dell'incubo dalla difficoltà per una ragazzina di 10 anni di capire che cos'è sua nonna a quale cultura appartiene e a quale cultura appartiene invece una ragazzina di 10 anni di fronte a una tradizione che difficilmente vuole sparire e quindi sì insomma è stato lo trovate in libreria io quest'ultima parte a meno che sempre non ci siano domande dato che ci sono anche fumettisti sarebbe bello sentirele volevo concentrarla brevemente sulle nuove tecnologie su quelle che secondo voi possono essere anche le possibilità io cito sempre un esempio di un'app che è uscita per per iPad con Dr. Jekyll e Mr. Hyde disegnato da scusate mi sfugge il nome in questo momento l'autore di chi era? Mattotti che secondo me è un modo interessante di vedere come il fumetto possa interagire con altre arti ad esempio con la musica cioè la possibilità di fruire la tavola sempre nelle dimensioni dell'iPad è secondo me arricchita in questo caso e non invece impoverita proprio dalla tecnologia dall'interfaccia dalla possibilità di guardare i bozzetti di ciascuna delle tavole dalla possibilità di ascoltare anche una musica che è stata concordata con l'autore interviste video su tutte le fasi di realizzazione del fumetto e dell'app il testo originale di Stevenson da poter leggere così come un ebook in formato e-pub quindi un'operazione che è in Audi tra l'altro ha messo a disposizione in maniera del tutto gratuita che mi fa pensare che le nuove tecnologie anche per il fumetto possano essere uno stimolo c'è in questo momento minimamente aperto un dialogo un pensiero su come poter strutturare il fumetto anche in funzione delle nuove interfacce o è troppo prematuro è qualcosa che voi vedete che gli editori si stanno ponendo come obiettivo come possibilità o c'è una sorta di stasi c'è una semplice trasposizione in questo momento del pdf che viene realizzato per andare in stampa e poi viene messo a disposizione a pagamento oppure diciamo piratato o c'è una riflessione su questo argomento che comunque dovrebbe essere attuale allora guarda da quello che ne so io da parte degli editori dagli editori che conosco e che frequento con cui ho un rapporto non conosco soltanto con cui non ho un rapporto di amicizia solo con Igor ti posso dire che non c'è ancora un progetto forte poi non so se tu ne sai qualcosa e qualcosina è stata fatta però c'è sempre un rischio io non sono un grande amatore di quell'applicazione del dottor Jacky del Mr. Hyde per quanto mi piaccia il lavoro di Mattotti perché c'è costruire un'app quando si costruisce un'app per contenuti di fumetto o di illustrazione c'è sempre il rischio di cadere nel Alice nel Paese delle Meraviglie insomma come ci puoi mettere tutto allora ci metti tutto ci metti il testo originale ci metti la musica ci metti gli schizzi ci metti le matite ci metti l'intervista all'autore però è un 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 di questa tecnologia che non è vista come una tecnologia ma come un contenitore da riempire che non che non mi ha mai che non mi ha mai affascinato cioè bisogna essere davvero ossessionati da quel libro per poi andarsi a vedere tutti gli apparati che ci sono ecco quando si ragiona per apparati e materiali da da materiali tipo i materiali extra del DVD i contenuti extra del DVD non mi piace tantissimo il sarebbe più interessante sfruttare le potenzialità narrative che potrebbe avere un iPad come uno smartphone per esempio il dico una cavolata a cui ho sempre pensato la butto lì sinceramente non ho mai scritto un progetto per il fumetto per i pad ma se io leggo se io ho l'i pad in mano sto leggendo un fumetto se lo giro può succedere qualcosa nella struttura narrativa del racconto cioè se lo giro e vedo lo schizzo della tavola in bianco e nero vabbè che me ne frega cioè io ho comprato quel fumetto per emozionarmi non per andare a capire come si costruiscono i fumetti poi magari io lo faccio perché lavoro in questo settore sono un curiosito però è un po' pretenzioso pretendere che tutti abbiano l'interesse di andare a vedere che cosa succede dietro le quinte ecco quando ci sarà da parte di autori perché poi gli autori che devono fare autori editori e programmatori e pensatori insomma di materiali per la rete avevo la volontà di costruire per la rete scusate non devono essere necessariamente contenuti online ma quando ci sarà davvero l'intenzione di fare di questi strumenti degli strumenti che non sono dei contenitori di pdf o di materiali video cioè questa cosa del prendere tutto quello che si può proprio succhiare da un progetto che è nato per la carta e farci migliaia di contorni e contorni e contorni per quanto interessanti come idea di progetto cioè come concept insomma non ci trovo nulla di nuovo cioè una rivista o un libro può presentare può avere un pensiero editoriale dietro molto più contemporaneo e più fresco probabilmente di un'applicazione che si dice nuova perché ti fa vedere il video quando ci sarà davvero l'intenzione di vedere nell'iPad uno strumento che va a toccare la narrazione cioè che diventa quindi mezzo espressivo o scusami sì sì strumento di racconto allora lì si potrà cominciare a parlare di incontro tra fumetto e nuove tecnologie per il momento è come se stessimo iniettando un po' di fumetto nelle nuove tecnologie ma lasciandolo così come cioè fumetto dovrebbe cambiare sì sono sono abbastanza d'accordo cioè penso che nuova tecnologia debba significare anche un modo nuovo di raccontare ecco in fondo anche il fumetto è nato su una nuova tecnologia che era insomma la carta stampata di cento anni fa e quindi si è sviluppato in base anche a delle esigenze tecnologiche cento anni fa non erano ancora formalizzati neanche i crash i bang che adesso prendiamo per scontato insomma ci è voluto del tempo e appunto una base tecnologica stabile che era la carta per arrivare appunto a fare narrazione con questi elementi e lo stesso penso succederà con appunto un nuovo supporto e in questo momento siamo appunto in una sorta di guada no? siamo ancora a metà con un piede da una parte e uno dall'altra quindi penso che anche io cioè quello che ho visto finora anche io non lo trovo entusiasmante cioè voglio dire non trovo che vedere un fumetto su tablet eccetera mi dà delle emozioni diverse nuove e maggiori rispetto al vederlo sulla carta mi sembra una trasposizione e basta sai cosa forse l'unica cosa interessante che avevo visto per la verità un po' di anni fa era sul sito di Scott McLeod c'erano dei suoi penso li chiamasse web comics o qualcosa del genere in cui se andate sul sito di Scott McLeod dovreste trovare questi materiali perché spiegarli a voce era un po' complesso cioè spiegarli a voce sembra semplice praticamente tu hai una vignetta e con i suoi testi e i suoi disegni al centro della vignetta c'è un piccolo triangolino nero bianco su cui triangolino scusate un piccolo rettangolino in cui poi vai a cliccare e ti si apre l'altra vignetta roba semplicissima arcaica HTML primitivo però in quella storia questo tipo di movimento assumeva un significato narrativo e non soltanto ti faccio leggere il fumetto con l'effettino stupido cioè aveva un diventava quasi parte del racconto questa cosa di cliccare di andare a mettere il mouse perché la scena era di due di una coppia in camera da letto semi nudi si creava una cosina quasi proprio di mettere mano di toccare questi corpi nudi era una cosa molto bella che non è stata molto cioè si poteva parlare finalmente di un webcomics che non è semplicemente il fumetto messo a video ma è un primo tentativo seppur timido di fare di fare il racconto attraverso la tecnologia e c'era questo e altre cose sul sito di Scott McLeod dovreste trovare qualcosa di interessante purtroppo anche un po' datato perché sono esperimenti che non sono dell'anno scorso sto parlando di cinque anni fa una cosa del genere dopodiché non conosco gli esperimenti che meritano di essere vero e ricordati io vi proporrei solo un'ultima domanda poi spero che ci sia qualche interazione con il pubblico altrimenti probabilmente verrete avvicinati dopo in privato parlando sempre di web perché è stato poi il tema centrale di questi cinque giorni quanto ha fatto bene tutto sommato al fumetto e quanto ha fatto male sia nella sua divulgazione sia nelle tematiche che riguardano il fumetto in questo momento ha un suo percorso ha un suo mercato nero nel senso che c'è la pirateria anche sul fumetto la circolazione di testi che vengono scansionati che vengono diffusi e che comunque anche se in una percentuale non molto alta ha inficiato il mercato e questo si rivelberà direttamente sul lavoro dei fumettisti quindi tutto sommato nel tirare le somme di questi ultimi cinque dieci anni quanto ha influito il web sul vostro lavoro sulla diffusione se avete anche degli esempi di autori che grazie al web grazie alla diffusione attraverso webzino loro stessi blog hanno spopolato e sono riusciti anche a diventare famosi ad emancipare la loro carriera grazie al web per me il web è stato importante probabilmente non è stato tutto ma è stato importante per me aprire un blog o andare a leggere il blog di Alessandro Tota il blog di Igort di Gipi il sito della Coconino andare a vedere contemporaneamente che cosa succedeva sul sito di Drone Quarterly è stato un momento in cui ho capito che questo lavoro che si fa sostanzialmente stando a casa si può fare anche un po' in compagnia ho avuto ho avuto la possibilità di non solo conoscere il lavoro di altri ma di crescere insieme insomma quello che dicevo prima di quel breve momento di un paio d'anni in cui tanti autori quasi contemporaneamente hanno aperto il loro blog è stata una stagione di discussioni interessantissime di scambi di litigate anche che mi hanno sicuramente dato stimolo insomma a continuare a fare e la sensazione di partecipare a qualcosa poi naturalmente insomma non vi sto parlando di chissà che grande cambiamento però di sicuro nel piccolo nel quotidiano sapere che il mio amico che viveva a Parigi stava facendo il suo graphic novel quindi ogni giorno faceva una tavola mezza tavola e io stavo facendo la stessa cosa e io sto facendo la stessa cosa come dire ti dà forza ti dà coraggio soprattutto quando devi lavorare su un progetto sul progetto lungo in cui sei praticamente da solo dalla mattina alla sera in cui nella maggior parte dei casi lavori nella sua stessa cioè lavori a casa quindi non esci neanche mai di casa e e quindi ha avuto sicuramente una rilevanza importante e con Facebook boh questa cosa si è un po' spenta non almeno per come la vivo io non non c'è c'è una grande proposta visiva cioè nel senso che comunque continuo a vedere il lavoro degli altri però non non c'è effettivamente più quello scambio che si verificava nei blog ora bisogna cioè ora io parlo di fumetto nella mia vita io parlo di fumetto quando incontro Paolo quando incontro fisicamente Paolo e voglio davvero proprio sfatare questo mito non probabilmente nel nostro settore il blog era un formato che funzionava e mentre quello del social network più estremo più più diffuso più 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 parcializzato tende a ad essere una una vetrina una cosa funzionale insomma che ha il suo valore sicuramente ma non ha non è portatrice di di stimoli almeno per quanto mi riguarda non so come in generale di interesse sono abbastanza d'accordo in generale credo che il web abbia fatto bene ai fumetti alla crescita che hanno avuto negli ultimi anni cioè ha reso i lettori più consapevoli in grado anche di comunicare tra loro i propri gusti le proprie esperienze e tutto questo secondo me ha fatto bene ai fumetti e non so se prendiamo come esempio un altro media come la tv ecco per esempio la tv devo dire che sia che parli di fumetti sia che non parli di fumetti ma è un mondo totalmente a sé stante che mi sembra che non abbia poca o nessuna influenza su due media che comunicano pochissimo tra loro per quanto riguarda il web invece l'impressione che ho ecco da uno dei tanti utenti e non da professionista del web quale sono è che è che aiuti magari i fumetti anche a migliorare cioè mi sembra che in alcuni casi non so in alcuni siti in alcuni si concentri anche un un discorso sui fumetti no spesso magari per un periodo dopo che il sito chiude compare qualcosa d'altro da un'altra parte però comunque c'è uno spazio ecco dove si discute di fumetti si discute di autori di fumetti passati presenti e si recensiscono i fumetti cose così e tutto questo credo sia utile insomma per noi autori per essere meno isolati per essere più visibili per per avere un un riscontro anche del proprio lavoro bene ci sono domande grazie 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 competenze didattiche per esempio credo di sì come dire allargherò il discorso non ai soli fumettisti ma a chi si occupa di fumetti magari dal punto di vista editoriale o dal punto di vista della comunicazione ecco no è sempre più necessario saper usare mezzi di questo genere per promuovere il proprio lavoro per arrivare a un maggior numero di lettori quindi sicuramente il discorso riguarda sei fumettisti riguarda anche chi opera nel settore editoriale dei fumetti e non conosco questo dottore di cui parli andrò a vedermelo sì senz'altro come dire il sistema è una delle tante possibilità insomma che ci sono adesso per quanto mi riguarda io lavoro anche con i video non ho mai fatto esperimento del genere sinceramente ho fatto il book trainer sì ma non ho mai avuto una produzione costante sul versante fumetto più altre competenze credo che sia anche sai un modo per questo autore per quelli che si cimentano in queste sperimentazioni di far vedere il proprio lavoro oltre che far vedere come si disegna un manga sì sì ma sì sì ma non non lo dico con con previdizio non anzi magari tutti avessero delle idee interessanti come come queste per promuovere il proprio lavoro meno si può comunque parlare di una della proposta di un servizio didattico che poi chiaramente va a giocare anche a favore di chi lo propone ci sono altre domande va bene allora io ringrazierei con un applauso gli ultimi ospiti grazie io devo fare almeno un ringraziamento ai partner dell'iniziativa che ci hanno dato una mano importante cioè chiaramente l'università degli studi di Bari e il distretto produttivo Puglia creativa l'ordine dei giornalisti di Puglia e il master in giornalismo che è proprio realizzato dall'ordine e dall'università un enorme grazie all'arte Puglia che è l'entente per l'innovazione della regione Puglia che ha contribuito in maniera importantissima a questa iniziativa è un grazie molto molto forte a tutti coloro che lavorano a PUL come progetto editoriale che sono stati presenti durante queste cinque giornate e ci hanno aiutato moltissimo nel diffondere quello che abbiamo fatto la speranza è che vi sia piaciuto abbiamo avuto un ottimo riscontro speriamo di riproporlo fatevi anche voi portavoce insomma se vi è piaciuta l'iniziativa fatevi anche voi portavoce speriamo di vederci per una seconda edizione grazie grazie a tutti